Marco Pomante comincia questa nuova avventura da capitano di questo nuovo Pineto. Le prime sensazioni? Tra pochissimo inizierà il primo allenamento. Le sensazioni sono positive perché c'è sempre voglia di ricominciare e ripartire. Oramai per me questo è il diciottesimo ritiro che faccio, quindi diciamo che senza calcio non ci so stare. Poi a livello di giocatori la maggior parte già li conoscevo, le sensazioni sono buone. È stata condotta una buona campagna acquisti, sono arrivati giocatori nuovi, vi siete rinforzati soprattutto in un reparto che forse è quello di centrocampo in cui l'anno scorso c'erano state un po' più problematiche all'inizio. Quest'anno che campionato ti aspetta? È normale che la squadra sia stata rinforzata, la società ha fatto un'ottima campagna acquisti. Che mi aspetto? Io mi aspetto sicuramente di fare meglio dell'anno scorso perché è normale l'anno scorso siamo salvati però diciamo che potiamo fare molto di più. C'è stato anche un ringiovanimento della Rosa da parte della società, sarai chiamato da capitano anche a fare un po' tra virgolette da chioccia a questi nuovi ragazzi che vengono al settore giovanile. Sì, quello che posso mettere al servizio della squadra è la mia esperienza, come ho detto prima questo è il mio diciottesimo anno che faccio questo lavoro, questo gioco. È normale, quello che posso fare è questo, mettere al servizio dei ragazzi, dei giovani. La mia esperienza è la mia voglia perché ho la voglia di un bambino diciamo. Grazie.